avevano ridotto in fin di vita un uomo di 56 anni per vendicarsi del figlio minorenne di quest'ultimo con cui avevano avuto una lite per futili motivi e l'accusa contestata a 5 persone residenti a Trentola Ducenta arrestate per tentato omicidio dai carabinieri 4 sono finite in carcere e una ai domiciliari su ordine del GIP del Tribunale di Napoli Nord si tratta di un 76enne del figlio e di tre nipoti tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni le indagini coordinate dalla procura di Napoli Nord ebbero inizio nel settembre 2022 dopo che la vittima finì in gravissime condizioni alla clinica Pinenta Grande di Castelvoltorno l'aggressione emerso era avvenuta mentre la vittima era in auto con i due figli ovvero il minore e il primogenito 25enne la loro auto fu avvicinata da quella degli aggressori che scesero ed iniziarono a danneggiare il parabrizza della vettura prelevando con forza il 56enne e i figli dall'abitacolo e picchiandoli con violenza ad avere la peggio il più anziano dei tre che aveva subito un colpo alla testa con l'uso di una mazza ferrata che aveva determinato la necessità di un'operazione neurochirurgica d'urgenza per una frattura del cranio con conseguente emorragia epidurale grazie a tutti